Maria è una giovane ragazza, figlia di pastori e promessa sposa di Giuseppe, abitante nel vicino villaggio di Nazareth, nella Galilea di 2000 anni fa. Allevata secondo il rispetto e l'amore verso il prossimo, dopo aver lasciato la casa di famiglia, comincia a rendersi conto delle asprezze del mondo patriarcale che la circonda, a cominciare dalla famiglia del marito. Il suo comportamento dolce e determinato, protettivo nei confronti dei bambini, è fonte di riprovazione da parte del capo famiglia Mardokeo, difensore della rigida tradizione e fautore della necessità della sottomissione, della punizione e della ferrea disciplina. Sullo sfondo di vicende storiche, politiche e drammatiche, Maria dà la luce a Gesù, trovandosi di fronte a situazioni difficili e a scelte decisive. Sincero ed emozionante, affresco sulla vita della madre di Cristo, io sono con te, di Guido Chiesa, punta tutto sulla teoria della profonda influenza di Maria sulla personalità e sulle scelte del futuro Messia. E vince un rapporto dove un'empatia quasi mistica unisce i due protagonisti con una madre lunare, dal sorriso disarmante e oscillante tra granitica determinazione e fatalistica consapevolezza, e un figlio che, sin dalle percezioni e sensazioni prenatali e poi dalla tipica educazione dei genitori, sembra aver appreso più di quanto la storia ci abbia mai raccontato.